back to back back to back con Emma Stoccolma, Regino Castol back to back back to back oh black devil bang to down Sassuolo Magritte qui andiamo all'aeroporto di Sassuolo oh black devil down to down ospedale nuovo civile ospedale oh bello 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 in Modena non credo di aver passato sono venuto alla pista oh black devil prendo il brevetto da Gigi Cagni e quando non ti chiamano più a fare l'adattore ha senso e chi ti chiama? Cellino che chiama i suoi amici Presidente che chiama? Decani dunque parliamo proprio del cronoprogramma il cronoprogramma con Guido Ardon la ricorsa dell'Italia che riparte con il tole ragnatele in suoni sentite senza dirti no questo contatto tra Caldirola e il difensore adesso ritorna la grande musica ecco questo ce la voglio farcela anch'io aeroport qui c'è una specie di castello vedete radio stella radio picco radio region tutto l'universo di Giannetto Prandi RMS Radio Musichiere Scandiano Radio Ram adesso si è tolto la tuta Ielenic altro ex del Carli Ielenic è sotto quindi 3 a 0 diretti Uber 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 果